ciao a tutti in questo video vi spiegherò come doppiare un video in una lingua che non parlate se guardate uno dei miei video sul mio canale vedrete che alcuni sono doppiati in inglese alcuni sono in inglese francese e altri anche in giapponese sono tre lingue che so parlare abbastanza bene ma se voglio doppiare un video in arabo o in russo il modo c'è si può fare usando la propria voce ed è totalmente gratuito niente app da comprare ovviamente ci vuole un po di tempo per avere un buon risultato prima di iniziare vi do alcuni consigli sul video originale da doppiare se realizzate voi il video da doppiare usate frasi semplici frasi corte e concetti chiari nel video parlate lentamente in modo da poter avere margine di tempo nel doppiaggio cos'è necessario per la traduzione google translate audacity che è un software open source un microfono e nelle cuffie scrivete il testo del vostro video o se l'avete già girato trascrivetelo come sto facendo io in questo momento ora aprite audacity cliccate su configurazione audio e dove vedete sistema selezionate windows whatsappi poi in dispositivo registrazione selezionate il dispositivo da cui proviene il suolo che ascoltate è uguale al dispositivo di riproduzione andate in google translate selezionate la vostra lingua è quella in cui doppiare incollate una frase evitate frasi lunghe e cliccate su traduci ora in audacity premete rec non partirà la registrazione e la barra che indica il tempo di registrazione sarà rossa in google translator cliccate su altoparlante in basso a sinistra su audacity vedrete la traccia audio di quella frase conviene prima registrare tutto il testo dividendo le tracce frase per frase ora rimodificate la configurazione audio selezionando mme e il vostro microfono ascoltate la frase più volte poi ripetete il suono della frase meglio che potete la vostra traccia finale sarà nella lingua scelta con la vostra voce non vi resta altro che caricare la traccia su youtube se avete l'opzione multi traccia audio di già attiva se volete sincronizzare meglio il video con l'audio seguite il mio video di youtube tutorial su come doppiare un video se questo video vi è piaciuto scrivete un commento nella vostra lingua e iscrivetevi al canale se vedrò molti iscritti che usano la stessa lingua potrei doppiare anche gli altri video del mio canale nella vostra lingua ciao e grazie 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 grazie